Per non dimenticare, oggi 27 gennaio si celebra la giornata della memoria, per ricordare a tutti quello che è successo e soprattutto per non dimenticarlo, per non dimenticare quelle persone, per non dimenticare le loro valigie, i loro sogni, i loro pensieri, la loro cultura, soprattutto per non dimenticare le atrocità che sono stati fatti verso un popolo che secondo loro la loro colpa era solo la religione, per non dimenticare anche le persone che hanno combattuto contro anche quel regime. Se andate a visitare un campo di concentramento, quando siete lì, riflettete, cercate di capire come sia possibile che sia successo tutto questo, che il giorno della memoria è per ricordare e far sì che questo non riaccada. Pensate a quelle persone che l'unica cosa che volevano era essere liberi e vivere la propria vita, però questo deve essere ricordato sempre.